Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capaci, benvenuti in un nuovo video. Avete letto bene? Da oggi 5 per 3 non è più uguale a 3 per 5, almeno secondo una professoressa americana. Già infatti questa polemica che sta diventando virale perché in America un bambino in terza elementare ha scritto che 5 per 3 è uguale a 5 più 5 più 5. Secondo l'insegnante non è così, grave errore, è letto un brutto voto perché la risposta corretta era 3 più 3 più 3 più 3 più 3. Subito i genitori sono schierati in difesa del bambino, mentre la scuola e il preside difendono l'insegnante. Anche in Italia alcuni professori difendono la collega americana. Il motivo è questo. Il punto, spiega la professoressa Garagnani, è che una cosa è la definizione di moltiplicazione, un'altra sono le sue proprietà. Se la maestra in classe aveva definito la moltiplicazione di A per B come A volte B, e in inglese 5 per 3 si legge proprio 5 times 3, cioè 5 volte 3, allora ha ragione lei. Se invece aveva già spiegato anche la proprietà commutativa, ovvero che fare A per B o B per A è uguale, allora ha ragione il bimbo. Io non ho mai sentito niente di più così stupido. Non ho mai letto niente di così stupido. Cioè, se la professoressa non aveva ancora fatto la proprietà commutativa, il bambino non poteva saperla, e quindi se ha scritto così ha sbagliato. Ma ci rendiamo conto del livello basso? Cioè, questo è tutto ciò che la scuola non dovrebbe essere. Pensavo che livelli così infimi fossero solo in Italia, ma evidentemente la stupidità ormai è a livello internazionale. Cioè, l'insegnante, il professore fa la sua lezioncina, il suo monologhetto, e tu devi ripetere pari pari, perché se magari ragioni con la tua testa, vai oltre, capisci cose da solo, magari fai ricerche tue, e lei quelle cose non te le aveva ancora dette, allora è sbagliato. Devi aspettare che lei te le spiega prima di poterle dire, se no, meriti un brutto voto. Io non ho, ripeto, quando ho detto questa notizia ho detto, mamma mia, è una tristezza assoluta. Se aveva spiegato la proprietà commutativa, allora ha ragione, ma se ancora non l'aveva spiegata è sbagliata. Ma è sbagliato cosa? L'insegnante deve essere un mezzo per arrivare a delle conoscenze e per comprendere le cose. Uno stimolo ti deve dare gli stimoli per riflettere, gli strumenti per riflettere e per capire, poi autonomamente. Quindi se il bambino magari ha capito da solo che esiste la proprietà commutativa, va benissimo, chi se ne frega se non l'aveva spiegato. Cioè, se tu raggiungi lo stesso risultato, utilizzi i metodi che vuoi. E questo vale qualsiasi materia. Non è che se in italiano la professoressa si spiega leopardi con certe parole, tu devi ripetere quelle parole lì, perché se ne usi altre tue, magari fai ragionamenti, che non hai anche letto nessuna parte, ma ci sei dato da solo con la tua testa, hai sbagliato. Perché lei non te l'aveva ancora detto. Ragazzi, ma quelli sono gli insegnanti. Ci rendiamo conto perché poi la società non promette niente di buono, ed è quella che è. Perché questi sono gli insegnanti, gli educatori, che ti fanno una lezioncina, e tu da solo con la tua testa non puoi ragionare di aspettare che te lo dica lei. Se no è errore, se no è un brutto voto. Ma basta. Mi fermo qui, mi fermo qui, vi saluto, aspetto le vostre considerazioni qua sotto, e iscrivetevi ovviamente al canale. Ciao!